Promuovere la bellezza della musica cristiana come via per arrivare a Gesù Cristo. Con questo obiettivo nasce il Worship Music Festival con Francesco D'Assisi e Carlo Acutis in scena dal 2 al 4 dicembre ad Assisi. Tre intense giornate di festa tra musica e preghiera alla Procivitate Cristiana di Assisi, al Teatro Lyric e al Santuario della Spogliazione, con momenti di catechesi, preghiera cantata, concerti e momenti di formazione sul mondo della discografia. Un ricco programma gratuito per tutti gli appassionati, ma anche per quanti vorranno semplicemente godere della bellezza e della potenza evocativa della musica di Lode. Protagonisti della Tre Giorni, promossa dalla Fondazione Diocesana Assisi, Santuario della Spogliazione, in collaborazione con Proscenium e con il patrocinio della città di Assisi, saranno tra gli altri fra Alessandro Brustenghi, Romilda Cozzolino, Marco Mammoli, il cantiere Kairos, il Reale e i The Sun, celebre rock band che ha portato la musica cristiana alla ribalta nazionale e che festeggerà i primi 25 anni di carriera con un concerto al Teatro Lyric di Santa Maria degli Angeli il 3 dicembre. L'intenso programma del Festival di dicembre offrirà importanti momenti di formazione. Fra Alessandro spiegherà come si scrive un testo, i musicisti Michele Rosati e Giudinardo daranno indicazione su come comporre una canzone. Interverrà poi anche fra Graziano Maria Malgeri, animatore vocazionale e autore di molti testi di musica cristiana, che spiegherà come trasformare l'ispirazione in parole. Non mancherà infine un momento formativo sul vasto e complesso mondo della discografia. Il produttore Andrea Marco Ricci illustrerà il mercato musicale e come si fa a promuovere e diffondere un brano. L'ingresso a tutti i momenti è libero e gratuito, ma è necessaria la prenotazione. Tutte le informazioni sono reperibili su www.assisisantuariospogliazione.it e sulla pagina Facebook della Diocesi e del Santuario.